Il giornalista bitontino Marino Pagano ha presentato il suo libro Chiara da Montefalco, una monaca medievale con il cuore aperto al mondo, edito da Fede Cultura e pubblicato nel marzo scorso. Alla presenza del teologo e saggista Don Nicola Bux, dello storico delle religioni Leo Lestingi, di Roberta Simini, docente di teologia patristica e del giornalista Francesco Mastro Matteo, Pagano ha dunque descritto il tema della sua prima pubblicazione autonoma, che non è solo una biografia della Santa Umbra, ma anche un racconto dell'Umbra medievale. Santa Chiara da Montefalco è una delle figure più importanti, a mio modo di vedere, ma anche della storiografia più esperta sull'argomento, delle donne religiose del Medioevo, monache claustrali, all'occorrenza anche sante, ma tante volte anche solo beate, o persino delle mistiche, delle religiose, che hanno approfondito la mistica come conoscenza, e come capacità particolare di sguardo, capacità particolare di sguardo femminile, e quindi queste, persino anche eretiche, quindi c'è una grande, o ritenute eretiche a loro tempo, c'è una grande tradizione di donne del Medioevo che hanno approfondito la mistica, la mistica come strumento di conoscenza, e persino come capacità culturale, difficile evidentemente per una donna, per una claustrale del Medioevo, ma come possibilità umanissima di proiezione al di là delle grate del monastero. E quindi la figura è interessante per questo, perché lascia l'ambiente, nonostante fosse una claustrale, strettamente religioso delle sue strutture di appartenenza, per advenire un ruolo persino direi sociale, e queste ce lo dicono le fonti, da qui l'interesse per questa figura.